Ci troviamo al comune di Mosso, per quale motivo? Giuseppe Paschetto? Il comune di Mosso in questi giorni è balzato alla ribalta, possiamo dire, non solo nazionale ma mondiale con questa campagna lanciata dagli alunni della nostra seconda B, io insegno matematica e scienze Non si sbudelli l'Italia per cercare di acquistare l'isola di Budelli è un'isola sarda bellissima e fare in modo che rimanga un bene comune italiano La cosa è partita con la lettura di un articolo della stampa dove si parlava del magnate neozelandese che aveva rinunciato all'isola dopo averla pagata 3 milioni di euro a un'asta fallimentare perché l'isola sarda famosa per la sabbia rosa era di proprietà di un immobiliare milanese e Mr. Hart che l'ha acquistata voleva inizialmente utilizzarla per studi di carattere ambientale poi pare che abbia proposto anche alcune ristrutturazioni edilizie, la creazione di un porto a quel punto il parco ha stabilito un vincolo di riserva integrale e il neozelandese ha rinunciato in realtà ha ancora due giorni di tempo per tornare sui propri passi oppure recuperare la cauzione di 300 mila euro e tornare in Nuova Zelanda e così siamo entrati in campo i ragazzi della nostra seconda B i quali dopo aver sentito l'articolo hanno detto ma proviamo a fare qualcosa e hanno scritto questa lettera alla stampa che poi ha avuto tutta questa eco Praticamente la vostra iniziativa sarebbe quella di salvare un'isola da uno scempio? Ma da uno scempio non sappiamo perché poi non sappiamo veramente che cosa avrebbe voluto fare comunque non avrebbe potuto più che altro vogliamo farla rimanere pubblica, italiana e tutelata adesso si tratterà di vedere quando il Tribunale di Tempio Pausania che ha in mano la cosa farà una nuova asta oppure se come sembrava tre anni fa il Parco Nazionale che quindi è un'istituzione statale riuscirà ad accapparrarsela e noi in ogni caso abbiamo avviato questa campagna che ci ha portato a ricevere migliaia di offerte di collaborazione e di denaro un po' da tutto il mondo abbiamo ricevuto i primi soldi proprio dal Costa Rica, da un cittadino italiano del Costa Rica e quindi questa campagna la portiamo avanti per riuscire ad aggiudicarsi l'asta e a fare in modo che poi venga gestita evidentemente non dalla scuola di mosso ma che l'isola possa tornare in qualche modo alla collettività questo in qualche modo lo vedremo nei prossimi giorni, lo vedremo più a breve Una notizia che tra l'altro ha fatto veramente il giro del mondo con interviste, servizi televisivi, pagine sui giornali Certo, beh, un servizio particolare è quello che ha fatto la televisione russa che ha intervistato il mio collega ed è andata in onda quindi siamo rimbalzati nelle case di Mosca e dintorni e poi per il resto molti giornali online e di carta stampata il Daily Telegraph, giornali di Hong Kong, Guardian giornali tedeschi, americani e molte offerte ci sono arrivate appunto dagli Stati Uniti Diciamo che è una grossa soddisfazione per i nostri ragazzi perché questo è innanzitutto un progetto scolastico e quindi ci interessa ancora di più del riuscire a portare a termine l'acquisizione dell'isola e il fatto che i ragazzi facciano questa esperienza eccezionale in cui non usano solo libri ma intervengono veramente in un'azione concreta eccezionale in cui non usano solo